Come molti sanno, San Pellegrino in Alpa è il paese più in alto di tutto il crinale appenninico nazionale, con i suoi 1525 metri sul livello del mare. Ma non tutti sanno che questo antico borgo è completamente tagliato da un antico confine. In uno dei bar del paese, dove è marcato con precisione questo confine, può capitare che... Abbiamo preso un caffè in Emilia, però adesso lo andiamo a pagare in Toscana. Sì, basta fare due passi e si cambia comune, provincia e regione. E questo avviene solo a San Pellegrino in Alpe. Dove lo trovate? Un bar dove prendi il caffè a Lucca e lo paghi a Modena. Due comuni, due province e due regioni. È una cosa vecchissima, medievale, dal tempio del Duca d'Este del 1221. Questa particolare situazione geografica la conoscono bene anche i due santi che riposano all'interno del santuario, molto popolari e venerati. Parliamo ovviamente di San Pellegrino e San Bianco, che hanno la parte alta del corpo in Emilia e quella bassa in Toscana. In questo modo, vennero accontentate sia le comunità del versante emiliano che di quello toscano, che si contendevano i due santi. Grazie. Grazie. Grazie.